E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Economia Italia, ben ritrovati. Oggi parliamo di fast fashion, quindi vi invito a mettere subito un like per aiutare il canale a diffondersi e ovviamente vi invito anche a fare un abbonamento se ne avete la possibilità. Oggi parliamo di fast fashion, vedo che Sabrina è già partita chiedendo cosa sia questo fast fashion, magari va la pena perderci due minuti per inquadrare l'argomento. L'argomento bello che dovrebbe interessare, visto che l'Italia è piena di aziende tessili. Sì, l'Italia è piena di aziende tessili e soprattutto il tessile è una delle industrie che inquina di più. Io inizio così dicendo un po' quale sarà poi la mia opinione finale, anche se prima vorrei concentrarmi appunto su dati, elementi fattuali che ci portano a discutere se esistono appunto dei benefici oppure appunto dei costi. Come al solito esiste un trade off tra le cose, quindi da una parte ci sono dei vantaggi e dall'altra degli svantaggi. Non voglio suggerirvi che vi siano soltanto vantaggi o soltanto svantaggi. Sicuramente possiamo dirci prima di tutto che cos'è questo fast fashion, cioè parliamo di aziende come Shine, parliamo di aziende come appunto Temu che ci propinano abbigliamento velocissimo, quindi parliamo di aziende che producono vestiti in modo molto rapido e direi quasi immediato, basato su design che riguardano tante volte l'alta moda. Ora una spiegazione semplice e banale, però almeno ci arriviamo tutti. Ecco, sono quindi dei capi con una durabilità molto bassa, quindi usato poco tempo questo capo perde di qualità, perde le sue proprietà diciamo iniziali, quindi banalmente scolorimento, banalmente perdita proprio di tessuto, banalmente tessuto anche sintetico e lavorato con una qualità molto molto bassa. Quindi parliamo di questo sostanzialmente. Potremmo riferirci a altre marche come Zara, Stradivarius e via discorrendo. Ora non voglio rifare tanti nomi perché l'intento non è quello di provocare astioni nei confronti di queste aziende, non penso che sia l'obiettivo almeno del mio canale. Quanto più che altro è chiederci appunto se va la pena investire su questa tipologia di economia oppure va la pena far qualcosa per migliorare questa tecnologia, questa, scusatemi, questa branca industriale e cercare appunto qualche punto, se mi concedete, di second best, ok? Quindi un punto che potrebbe essere un ottimo, un secondo ottimo, ecco, in modo tale appunto da migliorare la situazione. Ma io parto da un ragionamento banale, ok? Che vi potrà sembrare banale, di costi e benefici. Esistono dei costi per quanto riguarda gli occidentali, esistono dei costi per quanto riguarda appunto gli orientali, perché spesso e volentieri questi prodotti vengono appunto importati dall'Oriente, quasi ormai la Cina poca roba, si tratta più che altro di Bangladesh, si parla di Indonesia, si parla appunto di queste aree meno note ai più. Ci sono anche altri paesi, noi abbiamo parlato spesso e volentieri sul canale in relazione alla rubrica tenuta da Fabrizio riguardo all'Oriente, all'Estremo Oriente, quindi se siete interessati recuperatevi quelle puntate che secondo me sono molto interessanti. Però ecco, quello che vorrei sottolineare è che ormai fast fashion non fa più rima con Cina o non fa più rima sempre con Cina, perché appunto anche la Cina sta puntando a alte tecnologie e quindi sta abbandonando, diciamo, progressivamente l'industria manifatturiera. E altre economie emergenti si stanno approcciando a questo tipo di business, non soltanto al fast fashion ben inteso. Parliamo quindi dei vantaggi occidentali, che secondo me sono quelli che possiamo diciamo considerare più palpabili, perché appunto ne usufruiamo. Abbiamo sicuramente un prezzo inferiore di questi capi, perché appunto il prezzo del capo è dato dai costi di produzione che in larga parte sono spiegati dal costo del personale. E appunto in occidente il costo del personale è molto più elevato rispetto magari al costo in Thailandia oppure al costo, che ne so, in Indonesia e via discorrendo. Questo è abbastanza evidente se andiamo a vedere appunto il costo del personale in questi paesi. Dopodiché abbiamo una convenienza data anche dalla democratizzazione degli indumenti, della moda in generis. Ci sono stati tanti casi di replicazione molto veloce di indumenti che erano appena usciti alle sfilate di moda. Adesso io non sono un grande esperto, ci mancherebbe, però a qualche caso può essere appunto delle maglie Versace, via discorrendo degli stili abbastanza riconoscibili che possono far leva appunto su grandi masse, quindi grandi volumi. Quindi abbiamo anche i tempi ridottissimi di accesso appunto a questi prodotti, perché passiamo con un tempo estremamente ridotto dal design, quindi dall'alta moda che decide appunto che quel capo sia interessante, al fatto che vi sia una replica a 5, 10, 15 euro e che ci permetta appunto di accedere a questo bene che, diciamo un occhio poco attento, potrebbe essere molto simile rispetto appunto a un altro capo di ben diversa qualità. Questo chiaramente non vuole dire che l'alta moda non faccia ricorso anche spesso e volentieri a fabbriche molto simili o con una gestione dei capi in modo molto simile a quella appunto del fast fashion. lungi da me dire questo. Si sviluppa, secondo alcuni, qui la mia opinione è che sia una gran esagerazione, però si sviluppa secondo alcuni, grazie al fast fashion, un mercato dell'usato in crescita. Cioè io compro il vestito, il capo, l'abbigliamento e dopodiché, dopo averlo usato una, due, tre volte, riesco a rimetterlo sul mercato e quindi c'è un riutilizzo. Però se capite bene questa cosa un po' cozza rispetto alla definizione di fast fashion. Fast fashion appunto parliamo di un prodotto a bassa durabilità, a basso costo, bassa qualità appunto produttiva che ricalca qualcosa di più elevato. Ok? Quindi su questo io personalmente ho qualche dubbio. Anche perché vedendo come funzionano alcune applicazioni legate al mondo dell'usato, pensiamo a Vinted, mi pare evidente che la sua esplosione sia sufficientemente correlata e spiegabile attraverso le crisi finanziarie o comunque le crisi economiche che hanno colpito il nostro e altri paesi occidentali negli ultimi anni. Per cui la gente, essendo che ha la necessità di vestirsi probabilmente per accedere a capi a più basso prezzo, ha deciso di inserire nel suo paniere di opportunità anche Vinted, come ad esempio in passato magari inseriva Shine o inseriva qualsiasi altro negozio. Ci sono dei vantaggi anche per il popolo orientale, anche qui spero che non abbiate male se semplifico, che riguarda posti di lavoro, parla di crescita economica, parla di crescita salariale in alcuni casi e parla anche di uscita dalla povertà. Perché questo? Perché chiaramente in alcune aree dell'Oriente ci sono forti depressioni economiche e business di questo tipo permettono appunto la crescita economica di questi paesi e la fuoriuscita da una situazione di estrema povertà. Quindi ci sono effettivamente dei vantaggi e mi sembrano abbastanza evidenti rispetto alla narrativa, diciamo la vulgata, che più o meno si fa quando si apre questo argomento. Tuttavia esistono anche appunto degli svantaggi. Andiamo a vedere qualcuno. Qui c'è un report un po' vecchiotto dell'European Environment Agency, magari ve lo vado a tradurre e ve lo vado a condividere, così ce lo guardiamo un po' tutti, che ci racconta un po' di come va l'industria del tessile. Un report del 2017 pubblicato, cioè su dati 2017, pubblicato nel novembre 2019. Questo perché probabilmente nel 2019 l'elezione di Ursula von der Leyen aveva spinto sull'argomento, quindi probabilmente c'era stata una spinta, però se vediamo c'è già un'ultima modifica, 15 febbraio 2023. Quindi diciamo che qualcosina potrebbe essere appunto aggiornata. Detto ciò, guardiamo un po' di questi dati che ci vengono proposti. Parto da Icky Point, ci dice che il consumo e la produzione del tessile è aumentato grazie appunto alla globalizzazione, ha coinvolto milioni di produttori e miliardi di consumatori in tutto il mondo. In Europa il settore impiega 1,7 milioni di persone e gli europei appunto consumano in media 26 kg di prodotti tessili a persona all'anno. Quindi una cifra non così indifferente. Ci saranno paesi che all'interno dell'Unione Europea consumano di più e paesi che appunto consumano di meno. La cosa interessante è guardare il ciclo di import-export. La produzione europea è di 7,4 kg a persona, l'import extra-way invece è di 27,9 kg. C'è poi un export e poi c'è un final consumption, quindi il consumo finale europeo. Anche qui, ripeto, i dati sono un po' vecchiotti ma poco ci interessa, ci permettono di raccogliere un po' l'idea. Abbiamo appunto questi 26 kg a persona che è sicuramente un elemento importante. Quando parlo di prezzi, prima dicevo i prezzi sono diventati più convenienti. Qui ci ricordano che tra il 1996 e il 2018 i prezzi dell'abbigliamento nell'UE sono scesi oltre il 30% rispetto appunto all'inflazione. Dal 2000 gli europei hanno acquistato più capi di abbigliamento ma hanno speso meno soldi per farlo. La fast fashion, ovvero il rapido cambiamento dell'inabbigliamento e delle tendenze della moda, promuove un aumento dei consumi e riduce la durata di vita degli abiti. E quindi questo è l'elemento fortemente preoccupante, soprattutto se andiamo a vedere l'utilizzo di risorse. Qui c'è un piccolo grafico che ci racconta come vengono utilizzate le risorse all'interno della fast fashion. Vediamo appunto una presenza abbastanza importante di tutta una serie di settori che sono coinvolti nel cambiamento climatico sotto certi aspetti ma comunque col consumo di risorse. Abbiamo una gestione per quanto riguarda l'uso del suolo perché infatti l'utilizzo di coltivazione del cotone crea un trade off come ci spiega il report. Per quanto riguarda la pressione sull'uso del suolo della filiera a monte per il consumo nell'UE, abbigliamento, calzature e tessuti per la casa rappresentano la seconda categoria di pressione più elevata dopo il cibo consumato all'interno dell'Unione Europea. La maggior parte delle pressioni sull'uso del suolo previene fuori dall'UE, 93%, e sono in gran parte una conseguenza della coltivazione del cotone. Quindi sicuramente un altro elemento da tenere appunto in considerazione nella nostra grandissima equazione. Abbiamo emissioni chiaramente di gas serra, ma non solo. Quasi mi dimenticavo, c'è anche la presenza di scarto. Anche questa è abbastanza elevata, come ci raccontano. Abbiamo appunto la stima delle emissioni di gas serra nella filiera a monte, chiaramente. E poi chiaramente abbiamo anche la questione legata all'inquinamento delle acque. Magari non avviene appunto in Unione Europea, ma può avvenire nei siti di produzione. Infatti ci dicono che circa 3500 sostanze sono utilizzate nella produzione del tessile. Di queste, 750 sono state classificate come pericolose per la salute umana. Si stima che circa il 20% dell'inquinamento idrico globale sia causato dalla tintura e dalla fornitura dei prodotti tessili, che influiscono sulla salute dei lavoratori e delle comunità locali. Qua, se poi volete approfondire altri costi, o comunque altri impatti a livello sociale, io vi invito ecco a guardare alcuni report fatti, dei reportage, in verità dei video reportage fatti da Progetto Happiness. Secondo me hanno un grande impatto e possono spingerci appunto a una riflessione. Esistono poi chiaramente i costi legati al reso di questi prodotti, perché appunto, come potete osservare, c'è anche questo elemento riguardo appunto alla gestione di tutta la filiera. E quindi ci sono anche dei costi logistici. Qui magari metto in condivisione quest'altro report, sempre fatto dalla stessa agenzia, la quale appunto ci informa che un sacco di roba viene gestita attraverso il reso. Chiaramente non riguarda soltanto il fast fashion, però a maggior ragione il fast fashion viene coinvolto all'interno di questo settore ed è appunto rilevante. Anche questo poi ve lo lascerò in descrizione se volete andare a spulciarvelo e leggervelo più nel dettaglio. E quindi ci sono dei costi, assolutamente, ma abbiamo anche dei costi legati non soltanto all'ambiente che abbiamo visto qua, ma abbiamo dei costi legati anche alle persone. Perché se da una parte è vero che permettono l'emergere appunto di, o meglio, lo sconfiggere un po' la povertà, dall'altra distraggono risorse per industria a più alto valore aggiunto, che potrebbero portare una maggiore retribuzione in questi paesi. Distraggono risorse anche per quanto riguarda l'istruzione, per dire, e quindi generano anche delle spaccature sociali, che sono un elemento secondo me su cui vale la pena mettere un puntino di domanda. Non ci sono studi che ci dicono chiaramente qual è l'impatto della fast fashion rispetto appunto a queste dinamiche nello specifico, però esistono degli elementi che ci possono fare riflette a proposito di questo tema. Appunto mi riferisco poi alla questione sollevata dal progetto Happiness. Ecco lì ci sono anche cattive condizioni di lavoro, sfruttamento di manovalanza minorile, pessimi ambienti di lavoro e spesso e volentieri anche delle storie di droghe. Quindi anche qui ci sono elementi di carattere sociale che, a mio avviso personale, non possono lasciarci indifferenti. Qui forse usciamo un attimo da quello che è il tema prettamente economico. Tornando invece ad argomenti legati appunto all'Unione Europea, l'Unione Europea si è impegnata per cercare di limitare questi effetti. Io ho trovato questo regolamento sul foglio, ok, sull'EcoDesign. Potete trovarlo anche in inglese sul sito della Commissione, magari vi lascio qua sotto appunto il link. Si tratta di questo, di questa pagina. L'ho trovata più comoda perché è già tradotta in italiano questa del foglio, quindi la sfruttiamo. Chiaramente se volete avere la fonte originale è appunto quella della Commissione Europea che vi ho mostrato poco fa. Però almeno evitiamo di usare Google Traduttore che a un certo punto mi passa la voglia. E come vedete appunto l'Unione Europea chiede di gestire meglio i prodotti, ok? Infatti ci sono, vabbè, dei time frame per appunto adeguarsi a questa normativa. Si chiede che appunto il prodotto sia più durabile, sia più duraturo, scusatemi, in modo tale anche da favorire effettivamente l'industria dell'usato, ok? Quindi questo sì è un punto positivo secondo me. Chiede di controllare le catene del valore. E qui ci riferiamo magari ai concetti già visti riguardo alla Cibam o il Cibam, o se preferite appunto il Carbon Board Just Mechanism, di cui abbiamo discusso veramente troppissimo in questi mesi, però in cui appunto il venditore finale, quello in Unione Europea, deve garantire che determinate informazioni lungo la catena, quindi che descrivono la vita del prodotto, dalla sua ideazione fino appunto alla vendita, siano appunto compliance rispetto alle richieste della Commissione. Anche qui è la solita idea dell'Unione Europea di governare e controllare l'intero processo, visto che appunto qui in Unione Europea non possiamo innovare, verrebbe da fare la battuta, oppure non possiamo sfruttare economie di scala, non troppo, ecco che ci siamo messi a fare i regolatori del mondo e vedremo appunto come andrà a finire, perché a un certo punto credo che se andiamo a intaccare troppo dal punto di vista burocratico potremmo anche perdere la nostra capacità di potere d'acquisto nei confronti di altri paesi e quindi non essere più il maggiore importatore di questi prodotti e quindi non poter più dettare legge nei confronti appunto di queste nazioni. Quindi benissimo sotto certi aspetti, tuttavia rendiamoci conto anche di quale potrebbe essere il pericolo nel cercare di fare solo e soltanto regolamentazione, perché una regolamentazione ci vuole, chiaramente, io non sono per tana libera a tutti, però ci sono anche dei costi legati appunto alla regolamentazione che non dobbiamo mai dimenticare, altrimenti siamo qui un po' a raccontarci di pasti gratis e di sogni immaginari oltre al vincolo di realtà. Questi requisiti, come ci dice appunto il foglio, saranno applicabili non prima di 18 mesi dalla loro adozione, permettendo così agli operatori economici di avere il tempo necessario per adeguarsi. Già dal mese di gennaio del 2022 in Italia è obbligatorio per tutti i comuni la raccolta separata dei tessili per favorire il riciclo, anche questo è un altro argomento interessante, perché se andate a vedere un po' di reportistica vi accorgete che la quasi totalità di vestiti non finisce nell'industria dell'usato ed è per questo che io ho anche qualche perplessità riguardo a quell'argomento, come vi dicevo, ma finisce nei termovalorizzatori. Questo significa anche sotto certi aspetti chiaramente andare a valorizzare quel bene, il ciclo finale di quel bene, ma sotto altri significa anche non permettere al capo una nuova vita. Chiaramente se da una parte chiediamo più durabilità e quindi maggior qualità nel prodotto, dall'altra non possiamo poi farli finire sempre comunque verso un inceneritore, perché altrimenti ce la siamo un po' raccontata e cantata da soli, ecco in tutta onestà. Andando oltre sarà introdotto un sistema di etichettatura digitale che richiederà ai produttori di descrivere le caratteristiche e la composizione fibrosa dei tessili, oltre a evidenziare la possibile presenza di parti non tessili. Anche qui si riconduce appunto quel concetto di CIBAM o di supply chain duo diligence, per cui appunto il produttore, o meglio il venditore, il rivenditore deve rispettare determinati crismi e deve controllare tutta la supply chain. Quindi c'è questo passaporto digitale. La cosa interessante è che si inizia a parlare anche di greenwashing e quindi qua l'Unione Europea parla anche di mettere delle barriere a tutta una serie di diciture che cercano di ingannare il consumatore. Perché? Perché spesso e volentieri, qui ne abbiamo parlato anche in passato, cosa fanno i produttori? I produttori al posto che, o comunque i rivenditori, al posto che mettere a posto le proprie catene del valore e renderle effettivamente ecosostenibili, vanno a raccontare di un processo ecosostenibile quando effettivamente ecosostenibile non è. Ci sono svariati esempi anche in altri settori, quindi lungi da me affermare che sia soltanto l'industria del tessile o del fast fashion, in generis, a utilizzare determinate pratiche che vanno a ledere il consumatore. Però chiaramente anche questo è un argomento che fa piacere vederlo citato, visto che ormai si sta utilizzando la parola green o la parola sostenibile un po' per qualsiasi cosa. Mi verrebbe da far la battuta come quello che ti diceva che vendeva l'acqua a 0 kcal. Sì, l'acqua è a 0 kcal, però dire l'acqua è a 0 kcal per venderla, per agevolare il dimagrimento, da una parte è vero il messaggio, nel senso che l'acqua non contiene kcal, però dall'altra parte inganna le persone. Quindi anche questi sono argomenti sicuramente da tenere sotto osservazione. e poi si parla anche di deforestazione e sostenibilità. Quindi è un argomento molto vasto, a me ha interessato moltissimo riguardo alcune condivisioni che ho fatto con voi negli ultimi giorni. Ne stavamo discutendo appunto a caso qualche settimana fa, ne discutevo appunto anche con Sonia riguardo a costi e benefici legati a questo settore. A me sembra che sia necessario sotto certi aspetti un po' di regolamentazione in modo da adeguare le catene del valore rispetto appunto ai nostri crismi. Si tratta di rule of flow, potremmo dirci, o comunque di stare attenti all'ambiente anche lungo tutta la catena del valore. A parte di questi aspetti però, a me personalmente pare evidente che negli ultimi anni, grazie alla sensibilizzazione, ci sono tanti progetti, ripeto, quello più interessante è il progetto Happiness, anche marche come Zara, Stradivarius e altre si sono mosse per rendere più sostenibile la catena. Questo segno che il consumatore, comunque quanto si fa sentire, può andare a modificare il comportamento di determinate big player, potremmo dirci. Quindi ben venga la continua diffusione di queste informazioni e sensibilizzazioni sull'argomento. Chiaro che dovrebbe essere anche compito di chi si occupa dello Stato, a un certo punto, informare i cittadini di quali siano i pericoli. Giustamente qualcuno può sottolineare, e alcuni l'hanno fatto su Twitter, altri hanno usato solite scamotage narrative per non cogliere il punto, però su Twitter alcuni giustamente hanno fatto notare che l'utilizzo ad esempio di veicoli come può essere, o comunque di mezzi logistici o aziende logistiche come può essere Aliexpress e Temu, permette anche il bypass di alcune dogane. Ci sono alcuni metodi, che non starò qua a raccontarvi, che vi permettono sostanzialmente di far e di importare oggetti dall'Oriento senza passare dalla dogana. Ripeto, non vi dirò come, però se entrate nei vari blog è abbastanza banale scoprire questa informazione, o se in passato avete utilizzato Aliexpress o cose di questo tipo. Ecco, lì c'è un reale problema di controllo, perché appunto un bene viene spacciato per un altro, un prezzo viene abbassato per stare sotto soglia e quindi non partono gli alert della dogana. E quindi lì potrebbe essere appunto un problema, perché? Perché da una parte abbiamo messo un impianto regolatorio, abbiamo costretto alcune imprese europee che importano prodotti e li rivendono in modo appunto legale a sottostare a tutta una serie di regole. Ma dall'altra abbiamo permesso, che ne so, all'Aliexpress di turno di importare in Unione Europea o comunque di esportare verso l'Unione Europea prodotti che non rispettano gli stessi standard qualitativi. E questo non è una questione semplicemente anche di denaro o appunto di sfruttare le persone che vivono in Oriente, che hanno bassi salari. Ma si tratta anche di salute. Penso che sia abbastanza evidente anche questo, che se avete comprato oggettistica dai vari wish e cose di questo tipo, appunto la perdita di coloranti o banalmente irritazione e via discorrendo. Io ho visto qualche caso abbastanza simpatico. Ecco, quindi stiamo attenti come consumatori. Chiaramente sono molto d'accordo con l'idea di maggiore trasparenza sulla catena del valore, come il passaporto digitale. Sono d'accordo con maggiore informazione e sensibilizzazione della clientela. Secondo me è quello il punto principale. E chiaramente staremo a vedere se ci sono dei miglioramenti grazie appunto alla messa in campo di queste policy. Vedremo, vedremo. Io spero vivamente che abbiano un effetto. Ci sono alcune evidenze appunto che la strada imboccata sia quella giusta, però dobbiamo renderci conto appunto che ci sono costi e benefici del fast fashion. Non è tutto bianco e nero e più rinunciamo come consumatori a questo genere di prodotti, più facciamo una cosa positiva, ecco che verrebbe da dire. E niente, direi che è tutto per oggi. Spero che gli articoli qua sotto in descrizione vi aiutino a trovare una posizione. Spero di non essere stato troppo fazioso. Noi ci vediamo domani. Statemi discretamente bene. Ah, e ricordatevi like, è importantissimo. Ciao ciao.